e ci risiamo ragazzi un'altra edizione speciale un'edizione limitata di extrema razio questa volta per il caimano nero caimano nero edizione ranger per il 25esimo anniversario una tiratura limitatissima 250 pezzi che stanno evaporando quindi vi consiglio se vi piace di affrettarvi fatelo subito vostro perché presto non se ne troveranno in giro e vediamo anche perché beh è presto detto mi basta aprire la valigetta speciale antimoglie ed eccolo qui una versione del caimano nero completamente personalizzata per il 25esimo anniversario il coltello è lo stesso ve lo ripeto sempre anche queste edizioni limitate anche se sono coltelli da collezione siamo di fronte ad un coltello da collezione ad un coltello bellissimo da collezione rimane un coltello completo utilizzabile come il fratello qui a fianco il classico è un'edizione numerata quindi trovate sia la targhetta in valigetta che è riportato qui sulla serigrafia il numero del vostro caimano nero ecco ripetiamo un po le caratteristiche e qui di fianco o il caimano nero in versione classica le caratteristiche sono quelle che state leggendo è comunque un coltello speciale cominciamo a dirlo lama di 4 mm profilo spear point e combinata come vedete ha una parte liscia del tagliente un'altra seghettata è completamente apribile con una mano sola e anche chiudibile grazie o al thumb stand alla vite ambidestra che si può utilizzare con il pollice questa è l'apertura classica diciamo ma a chi non fa piacere avere il flip e qui ce l'abbiamo la lama in n 6 e 90 temprato con la ricetta di extrema ratio è trattata con quello che loro chiamano geotech camo ed è questa bellissima scritta qui che riprende un po il numero romano del venticinquesimo anniversario e si sposa meravigliosamente con la colorazione mad fango della manicatura manicatura fresata clip in titanio reversibile quindi destra o sinistra o anche removibile sul fondo troviamo un skull crusher o uno spaccanoci ora si avvicina a natale le cene con i parenti quindi dipende un po dal vostro passatempo preferito ed è comodissimo averlo qui una cosa importante è il sistema sicura abbiamo un liner lock forse non l'avete visto ma scatta quando apro la lama questo si chiama liner lock zigrinato e in questo modo posso facilmente richiudere il coltello è bilanciato da morire è bellissimo aprirlo se mi dovesse servire per un uso gravoso proprio come il caimano nero ha a disposizione la levetta che fa da seconda sicura con la seconda sicura inserita sicura supplementare io non riesco più a riportare il liner lock al posto e quindi non posso più sbloccare la lama è una sicura supplementare che può fare comodo tutto serigrafato tutto fantastico ci piace un sacco questo aspetto degli extrema razio che sembrano sempre smontati da un aereo e non è tanto campata in aria questa affermazione in quanto la manicatura è proprio fatta con alluminio di grado aeronautico un coltello che è elegante e funzionale non a caso sviluppato insieme al gruppo operativo incursori il goi le forze speciali della marina italiana il caimano nero ranger arriva nella sua valigetta ormai ci siamo abituati e abbiamo anche una moneta commemorativa del venticinquesimo anniversario questa moneta se vi dovesse piacere e ovviamente servire perché è bellissima da accarezzare la trovate disponibile su backpacko.it potete acquistarla separatamente ma se ci state pensando già che ci siete beh approfittatene per accompagnarla con tutta la dotazione del caimano nero dicevamo coltello targhetta metallica monetina e non dimentichiamo la valigetta serigafata fatta per resistere alle intemperie all'acqua ai p67 questa non è mica uno scherzo è una valigetta serissima e come dico spesso io è anche il miglior modo per camuffare il nostro acquisto questo possiamo lasciarla in garage in manzarda possiamo sotterrarla in giardino terra sempre al sicuro il nostro caimano nero ranger e nostra moglie non lo saprà mai che il caimano nero adesso è in dotazione al gruppo operativo incursori della marina italiana l'abbiamo detto ma forse non tutti sanno a cosa è dovuto il nome chi erano questi caimani neri beh i caimani neri erano un gruppo della fanteria italiana durante la prima guerra mondiale che erano addestrati per attraversare i fiumi e siccome attraversare il fiume è un momento di grande vulnerabilità per la squadra beh avevano sviluppato una tecnica di nuoto particolarissima e riuscivano a nuotare tenendo tutto il corpo sommerso facendo emergere solo la testa dal naso in su fantastico i caimani neri sono stati davvero molto importanti durante la prima guerra mondiale per la nostra nazione e forse devono il nome oltre alla tecnica di nuoto particolare anche al fatto che dovendo operare di notte per la maggior parte delle volte beh si cospargevano il colpo di nero di fuligine e di grasso il grasso serviva a proteggerli anche un po dal freddo perché la loro divisa si riduceva a dei calzoncini da bagno e quindi attraversavano il fiume con questo coltello tra i denti e imparavano durante l'addestramento proprio le tecniche di combattimento corpo a corpo con il coltello extrema razio in onore di quelle gesta ha rilasciato il caimano nero disponibile certo anche lui su backpacko.it ma oggi parlavamo della nuova edizione speciale edizione limitata e numerata la ranger edition per il 25esimo anniversario con questa lama decorata in modo inarrivabile stupenda è la manicatura anodizzata mad ragazzi non lasciatevelo scappare